Un edificio vuoto e chiuso al culto da oltre 30 anni che nel 2011 conobbe anche un rovinoso crollo del tetto. Dopo un lungo restauro costato quasi un milione e mezzo di euro, l'immobile dell'ex chiesa Sacra Famiglia nel quartiere Borgovilla di Barletta viene restituito finalmente alla fruizione pubblica. L'edificio è stato affidato per sei anni incomodato d'uso all'ambulatorio popolare e all'associazione musicale bandistica La Disfida a seguito di un accordo pubblico privato con il comune. Nasce così un nuovo contenitore culturale a disposizione di tutte le realtà associative del territorio. Noi siamo qui a circostruzione Borgovilla-Patalini che è la circostruzione più popolosa della città molto densamente abitata specialmente da famiglie con minori. Quindi l'obiettivo è dare a questa comunità, a questa circostruzione ma a tutta la città un polmone che possa respirare cultura, che possa respirare aggregazione, che possa includere tutte quante le persone che fanno parte non soltanto di questa circostruzione ma di tutta la città. Questo è un luogo bellissimo, grandissimo, spettacolare che grazie a questo impegno e a questa attività restituiamo alla città. L'obiettivo è di spalancarne porte e finestre per far entrare tutta la città, tutta la comunità per svolgere attività formative, informative, culturali, concertistiche, musicali. Abbiamo tanto nel nostro piano di gestione e siamo sicuri che possa coinvolgere non soltanto la comunità ma anche le parrocchie, gli enti del terzo settore, le associazioni e tutta la comunità. Nei prossimi giorni l'immobile verrà ripulito e sanificato in vista dell'imminente inaugurazione e anche le luci saranno implementate. Intanto si parte dall'esistente, ovvero quasi 90 poltrone per accogliere un pubblico che qui potrà assistere a conferenze, proiezioni cinematografiche e concerti musicali. Finalmente Barletta ha un altro polo di riferimento culturale e sociale. Questa struttura, questo auditorium verrà focalizzata principalmente per attività socioculturali. Ad esempio l'attività verrà caratterizzata da situazioni concertistiche, approfittando della partecipazione della banda musicale di Barletta con l'orchestra di Fiati. Quindi faremo molte situazioni di impatto sociale e culturale con invito alla cittadinanza. Ci sarà una programmazione di eventi dove verrà citata con canali social, Facebook, Instagram. Non avrà modo la cittadinanza di rimanere all'oscuro di questi eventi e quindi ci sarà veramente tanta informazione in merito a questi eventi. Quindi abbiamo una spaziatura molto ampia di quello che andremo ad esercitare all'interno della struttura di questa bellissima struttura.